Ciao! In questo video vedremo cosa significa costruire un percorso di carriera. Quando è opportuno ragionare sul proprio percorso di carriera e quali sono i passi da affrontare? È bene pensare a un percorso di carriera quando ci troviamo in una fase di transizione, quando sentiamo l'esigenza di cambiare lavoro, quando dobbiamo ancora entrare nel mondo del lavoro o vi rientriamo dopo un periodo di pausa. In tutte queste occasioni può essere utile fermarsi a ragionare in termini di percorso di carriera, chiedendoci cosa vorremmo fare e cosa ci manca per raggiungere il nostro obiettivo. Per riuscirci è necessario rispondere a una serie di domande. Quali sono le mie abilità e competenze? Quali i valori che muovono le mie scelte? Qual è il mercato di riferimento in cui vorrei lavorare? Quale obiettivo professionale mi pongo? Quale immagine voglio dare di me? Approfondendo singolarmente le tematiche sopraindicate sarà possibile poi definire un piano d'azione per favorire la realizzazione dei tuoi obiettivi professionali. Nei video che seguiranno vedremo nel dettaglio come rispondere efficacemente alle domande necessarie alla costruzione del tuo percorso di carriera.